Certo prenderò in considerazione quanto ho scritto sui giornali e dai giornali, ma so di certo e per certo che comunque c'è un dialogo costruttivo e sereno che in questi giorni si sta portando avanti e spero che questo e solo questo porti a una situazione che possa portare la politica tutta a dare alla città quello che merita. Nessun problema maggioranza all'interno dell'amministrazione Ottavio De Martinis. In queste ore però Fratelli d'Italia ha annunciato ufficialmente la rottura politica con il sindaco dopo l'ennesimo rinvio per il rimpasto di giunta. A darne notizia il coordinatore cittadino del partito della Meloni ed ex sindaco del centro adriatico Pasquale Cordoma, il quale è pronto a ritirare la delega al commercio ora nelle mani dell'assessore Paolo Di Blasio. La richiesta da parte di Fratelli d'Italia in un'eventuale nuova giunta è quella di due o tre poltrone per due uomini o al limite per un uomo e una donna. Il sindaco dalla sua però cerca di tutelare gli assessori eletti nella tornata elettorale del 2019 e non sembra pronto per il momento ad annunciare il rimpasto. Più che una soluzione si sta cercando tutti insieme e tra tutti insieme io metto anche Fratelli d'Italia e comunque a livello provinciale e regionale ha sempre manifestato vicinanza dei confronti di Montesilvano e lo sta facendo anche in questi giorni. Sanno benissimo quanto ci sia comunque una difficoltà perché c'è comunque gente eletta e che quindi ha avuto dei voti da parte dei cittadini che comunque va mandata a casa. Quindi io da sindaco ma anche da primo cittadino ma anche da papà se vogliamo politico amministrativo di tutta l'amministrazione ritengo che ci sia sicuramente una legittima aspirazione da parte di qualcuno ma che ci debba essere anche considerazione per coloro che comunque hanno rivestito bene il loro ruolo.